Ben ritrovati con Zero Pollici, questa sera vi vogliamo proporre una intervista al prevosto di Castione della Presolana, Don Stefano Pellegrini. Castione, la comunità, si appresta a vivere le celebrazioni per Sant'Alessandro in un anno molto particolare per quanto è accaduto con la pandemia. Ecco allora la riflessione che abbiamo raccolto con questa intervista al parroco Don Stefano Pellegrini. I mesi più duri sono ormai alle spalle, resta comunque l'eredità di quello che abbiamo vissuto e quest'anno sicuramente il sentimento che ci accompagna nelle vivere le giornate dedicate a Sant'Alessandro è scalfito da quello che abbiamo vissuto. Si scalfito in termini del senso di perdita, il senso di perdita perde tante e troppe famiglie che hanno perso i propri cari, penso alcune famiglie dove hanno perso sia il papà che la mamma, magari lo stesso giorno, la mattina la mamma, la sera il papà o famiglie dove tre fratelli e sorelle sono mancate nell'arco di poche settimane. Sesso di perdita per le radici di questa storia, sappiamo bene le stude scempiaggine che abbiamo sentito all'inizio dell'epidemia, tanto noi non solo gli anziani, una scempiaggine perché è come stare seduti sul ramo che stiamo tagliando. In realtà abbiamo perso tanto di questa storia in termini di uomini e donne che hanno fatto il nostro paese, hanno dato forma alle famiglie, a questo territorio e a questa storia. Quindi perdita per ciò che è stato, perdita ma anche occasione per ripensarci come comunità. Quanti in questi anni si sono messi a servizio della comunità, sono stati in questi mesi chiamati di nuovo a rimettersi in gioco e a ripensare le ragioni del servizio e sono stato colpito per come hanno saputo rispondere alle richieste dell'amministrazione, del corpo volontario, delle famiglie in difficoltà, delle parrocchie. Ha saputo rispondere con generosità mettendosi a servizio e accanto a loro altre figure che sino a poche settimane fa, poche mesi fa, non avremmo sospettato. Sono stati in grado di mettersi anche essi in gioco insieme perché questo è in termini di guadagno invece non di perdita. Se uno dei termini che utilizziamo adesso immaginando il futuro prossimo è ripartire, e questa è una cosa che dopo è scontata, che diamo per scontata la volontà di tutti di ripartire in ogni campo, da quello non secondario dell'economia, a quello del tessuto sociale da ricostruire, da quello delle famiglie o delle persone provate anche in termini di sofferenza psicologica, di disagio, di difficoltà a ripensare se stessi in questa storia. Mi piace sottolineare non tanto del ripartire doveroso, mi piace sottolineare un termine che viene prima, uniti, uniti per ripartire, non la singola parrocchia, il singolo gruppo, la singola associazione, ma tutti insieme che ricostruiamo il territorio, ricostruiamo il tessuto sociale di una comunità, la comunità certo di Castione, ma la comunità della Valle, la comunità che si è mostrata essere la terra bergamasca e per altri versi persino l'Italia. L'Italia oggi, ieri di leggeata per l'inizio della pandemia, per come in Occidente è stata la prima a essere colpita, in realtà oggi l'Italia è stata modello, perché come è saputo reagire e per come l'evoluzione dell'epidemia sta continuando. Quindi mi piace quello che dicevi prima Andrea, abbiamo lasciato le spalle, per me non è una speranza, ma è una certezza, con tutti i timori, tutte le attenzioni che ci dobbiamo prendere comunque. Per il tempo venirebbe per non ricadere in una situazione come quella che abbiamo già vissuto. Ecco, uniti può essere che il dolore comune sia un elemento di condivisione, quindi che ci avvicina purtroppo, ma come cerchiamo di trovare elementi positivi per farci forza, forse dovremmo far emergere anche questo aspetto. Mi ha colpito come la celebrazione più partecipata dopo le reaperture del 24 maggio, la possibilità di cevare coi fedeli, la ripresa delle attività. La celebrazione più partecipata ad oggi è stata, prima che con agosto avessimo le feste di Lantana, di Bratto e di Sant'Alessandro, sia stata la partecipazione alla messa che gli alpini hanno chiesto di cevare al cimitero per ricordare i loro defunti. Abbiamo fatto sì una serie di celebrazioni di tre cimiteri per ricordare i defunti della singola parrocchia, iniziative, messe di funerale e quant'altro. Mi ha colpito come però il giorno in cui gli alpini ci hanno chiesto di fermarci e pregare per i nostri morti, il cimitero fosse, con le opportune distanze, le mascherine e quant'altro, fosse colmo di gente. Non per dire nient'altro che io ci sono, noi ci siamo. Siamo a condividere questa storia, questo dolore, questa sofferenza, la condividiamo nella preghiera, nella presenza, nella vicinanza. Anche persone che usualmente non partecipano alla vita della parrocchia, alla vita religiosa, alla preghiera, quella giorno c'era una messa programmata in pochi giorni, comunicata in pochi giorni, eppure ho avuto numeri di partecipazione molto grandi che mi fanno vesperare nel termine di questo ritessere i figli di una comunità e dirsi uniti. Un particolare, mi diceva, uno degli albergatori, anch'essa questa famiglia ha colpito comunque in questo tempo della perdita del papà, è a notte. Uno degli albergatori, uno dei figli, mi diceva, ma la gente che è qui in vacanza, è qui nel nostro hotel, è qui sul territorio, resta colpita perché ci dice, ma voi qui prendete seriamente le epidemie rispetto alle regole. Se vai in un bar, se vai in un locale, non indossi la mascherinata, la fanno indossare, si premurano che ti igienizzi le mani e quant'altro. tutti, l'albergatore dice, sì, per un verso siamo stati scottati da questa esperienza, per altro verso ci piace che ci si accorga di come siamo una comunità con un volto, un volto di uomini e donne che hanno preso sul serio il compito di custodire la vita. Messi alla prova, stiamo oggi insieme tutti, ben attenti a non ripetere gli errori che sono accaduti. E su questa sofferenza mi permetto di aggiungere una parola. Quando nelle settimane dell'epidemia eravamo chiusi in casa abbiamo sentito tante voci, le voci degli esperti che non sapevano cosa dire, ci dicono, ma non sappiamo, non conosciamo, come sia, se ci sarà una seconda ondata, se chi si ammala può ricadere, se ci sarà l'immunità. Gli esperti non sapevano cosa dire, i politici non avevano, ma noi siamo qui perché ci suggeriscono gli esperti cosa dire, ma gli esperti non sapevano. Ecco, mi ha colpito come la voce più ascoltata che sapeva cosa dire, era ancora la voce della comunità, dei credenti. Ha continuato a dire la nostra fragilità di uomini, la nostra piccolezza, il nostro bisogno di camminare uniti nella fiducia in un giorno più bello che verrà. E adesso la comunità si appresta a vivere in un momento dove appunto c'è l'occasione di ritrovo più importante, la festa di Sant'Alessandro, qui evidentemente saranno evidenti anche le assenze nelle famiglie di chi ha perso delle persone, quindi un momento anche forte per quanto riguarda i sentimenti delle persone. Sì, Sant'Alessandro, quest'anno ho vissuto non più, dicevo già nei giorni scorsi, un servizio già trasmesso dalla vostra televisione, dicevo non più come un contenitore dove la sagra, i fuochi, l'illuminazione, le bancarelle sembravano farla da padrone ormai, ma si recupera il senso, il senso della comunità che nel senso di un santo, nel senso di un uomo che crede, di un uomo che per ciò in cui crede è disposto a dare, a dare tutto, persino nella vita, la comunità che nel senso di quest'uomo si ritrova e prega, l'abbiamo fatto quest'anno intessendo un filo, ritorno all'immagine del filo, la comunità che è chiamata a ripartire unita, e le tre grandi feste di Dorga, Lantana, di Castione a Bratto, la festa dell'Assunta e di Castione a Sant'Alessandro, unite dalla figura del predicatore, della meditazione, dei serati precedenti, le feste, per pregare, per meditare, per dire il senso di questo tempo di prova. Sant'Alessandro, e aggiungo anche all'inizio di ottobre un altro appuntamento che ci siamo dati insieme all'amministrazione comunale, uniti per ripartire, sarà un po' a questa anestesia di questo slogan, che celebremo la festa del 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia. Quel giorno qualcuno collocherà nel cimitero di Castione una targa, con quella poesia di Ernesto Liviero che è stata letta alla presenza del presidente Mattarella quando è stato al cimitero mondentale di Bergamo, e quel giorno interreremo un grande cedro, nello spazio qui antistante alla chiesa parrocchiale, alla casa parrocchiale, un grande cedro, grande no, non sarà grande, ma il cedro è una vita di sé, una vita lunga, il cedro è l'albero che nell'Antico Testamento è scritto come il gigante degli alberi, di cedro è costruito il tempio di Gisolemme. Ecco, pianteremo quell'albero, le cura e dici cresceranno nei secoli a venire, per ricordare le vittime, un albero, un monumento della natura, per fare un monumento alla storia di chi ci ha preceduto, è una targa vicino a quell'albero, per ricordare, è stato piantato nel 2020, per ricordare quegli uomini e quelle donne, tanti, tanti, che non ci sono stati più per colpa, a causa dell'epidemia di Covid-19. E sempre pensando a questa ripartenza, ora, per quanto riguarda la gestione anche delle attività di una comunità religiosa, cosa potrebbe cambiare? Facendo tesoro di quei mesi in cui le attività giocoforte erano sospesi o realizzate utilizzando i social e facendo nostra, l'indicazione del Vesco, che invitava a semplificare, a ridurre, a questi mesi ho pensato, e questa riflessione farò poi con gli organismi pastorali, faremo nostra, alla bellezza di quello che diceva qualcuno, ma abituato a uscire tutte le sere, ho riscoperto quanto è bello starmene un po' in casa mia con mio marito e i miei figli, con mia moglie e con i miei figli. Quindi ripensare la comunità non tanto come luogo di tanta programmazione, riunioni, incontri, commissioni. Ecco, ma ripensarla come luogo di incontri, incontri dove si valorizza il rapporto personale, la relazione. È bellissimo fare una riunione 15 dove programmiamo l'eterno identico che si ripete, no? Ma è più bello invece alcuni incontri personali dove possiamo dire chi siamo e utilizzare anche le modalità che i social ci hanno offerto, perché trovarsi tutte le sere, perché fare le riunioni tutte le sere, possiamo anche utilizzare i luoghi che abbiamo per altro, anche solo per trovarsi a mangiare insieme a un boccone. Ripensare la comunità, pensando anche alle forze che abbiamo perso, penso in termini di volontariato, penso anche in termini di figure religiose. La prima vittima del coronavirus nella diocese di Berlano è stato Don Tarcisio, Monsignor Tarcisio. Sappiamo cosa ha voluto dire per la nostra diocese, per la nostra terra la presenza di Don Tarcisio e sappiamo anche dell'aiuto che Don Tarcisio offriva alle nostre tre parrocchie. È diventata un'occasione povericiosa per ripensarci, pensando che al mio arrivo sette anni fa eravamo qui in quattro sacerdoti e adesso siamo in due. E continuiamo a fare, continuiamo a proporre esattamente come ieri, solo che ieri il prete aveva il tempo libero, il tempo per pensare a qualche hobby, il tempo oggi, dico il prete ma dico anche l'uomo che lavora, dico la casalinga che ha anche da seguire i figli, la casa, magari un lavoro, magari anche solo stagionale, mi chiedo se ha senso che moltiplichiamo le iniziative senza pensarne al significato e senza ripensare che al centro ci deve stare l'uomo, ci deve stare la persona, ci deve stare la donna e quindi la serenità, la bellezza degli incontri, di saperci sereni e di offrire occasioni per essere tutti felici. Soprattutto oggi dove uno degli strascichi brutti del coronavirus vedo per qualcuno l'angoscia, una certa difficoltà a ritrovarsi nei ritmi consueti, una maggiore richiesta anche di assistenza psicologica o farmacologica per alcune debolezze emerse o acuite. Ecco, meno attenzione ai programmi, all'organizzazione e più attenzione alla persona. Saremo una parrocchia, saremo una comunità meno preoccupata di alcune attenzioni, penso anche le difficoltà economiche delle parrocchie, ma meno preoccupazioni su questo e più preoccupazioni sul fatto che stiamo bene noi preti e insieme a noi gli uomini e donne che incrociamo ogni giorno. Pensando quindi per concludere a questa ripartenza di questi mesi anche che ci aspettano dopo l'estate? La ripartenza non deve essere attesa come qualcosa che fanno gli altri, riparte la scuola, forse riparte l'economia, per qualcuno purtroppo sappiamo non sarà così, una ripartenza deve essere intesa come uno sforzo personale, dove ripartenza non è essere di nuovo l'uomo di prima che riparte dal punto in cui si era fermato, ma ripartire in modo nuovo. Mi permetto un'immagine quando siamo saliti alla cappella Savina per celebrare con il Vescovo e ricordo tutte le vittime dell'epidemia. Sono salito presto, ho incrociato uno degli uomini storici del paese, l'Oise, già capogruppo degli alpini, erano alle 8 alla cappella Savina, ci diciamo adesso cosa facciamo, andiamo in vetta. Saremo la vetta della presolana, ma quando si arriva in cima, la difficoltà, la salita, l'attenzione si riparte, ma riparte vuol dire ripartire, o dire in quel caso scendere, e quindi non è lo stesso modo quello con cui si sale piuttosto quello con cui si scende, le attenzioni sono diverse, lo sguardo è diverso, gli sforzi, i muscoli che entrano in gioco sono diversi. Ecco, questa ripartenza dobbiamo avere caso anche di cercare strade nuove. Siamo cambiati, qualcuno in meglio, qualcuno è cambiato in peggio, nonostante quello che speravamo e ci aspettavamo e ci dicevamo durante i tempi del contenimento, ma ripartire insieme e ripartire cercando queste strade nuove. Qualcuno si immagina a ritornare a un tempo che è quello di ieri, no? Il tempo di ieri è proprio quello di ieri, è passato. Il tempo che ci è consegnato è nuovo ogni volta da capo, è guai, guai, se lo sprecassimo.